In Italia abbiamo una tradizione cattolica fortissima e il nemico numero uno della Chiesa è la scienza, perché la scienza ti dice le cose continuamente nuove, mentre la tradizione biblica ti dice tutto fin dall'inizio, quello che è successo è successo, quello che sai sai, invece la scienza ogni 5 minuti te ne inventa un'altra, ti trovo un'altra spiegazione, il che destabilizza, infatti molta gente dice la scienza va troppo in fretta, ma d'altra parte ti dà un outlook, una visione, una prospettiva che non è incistata in tanti secoli fa, quindi questa dialettica c'è sempre stata, in particolare l'Italia dice che apprezza l'umanesimo e le arti, dice che poi non lo pratica, per cui la scienza è proprio il vile meccanico, quello il quale ha dopo il cervello per costruire i robottini, chiaramente non è così.